È fine anno, a breve ne inizia uno nuovo. È il momento perfetto per dare una svolta alla propria vita. Oggi vi do 5 spunti per farlo veramente. Primo, individuare e scrivere tre obiettivi importanti da raggiungere entro la fine del 2023. Focalizzatevi su quelli, non fatevi distrarre. Secondo, fare almeno una settimana nel corso dell'anno di Digital Detox. Niente smartphone, niente computer o tablet, niente tv. Disintossicazione totale dalla tecnologia. Terzo, dedicare mezz'ora al giorno all'attività fisica, almeno 5 giorni a settimana. Corsa, nuoto, bici, palestra, yoga, crossfit, ginnastica in casa, quello che vi pare. Basta che siano 30 minuti ogni santo giorno. Quarto, leggere almeno un libro ogni due mesi, ovvero sei libri nel corso dell'anno. Bastano 10 minuti al giorno. Quinto, concentrarsi solo sulle cose che si possono cambiare, accettando e lasciando andare tutto il resto. Questo è il più importante e difficile, ma se riuscite a metterlo in pratica, vi svolta alla grande. Buona fortuna e buon anno a tutti.